Faccio finta di essere occupato. La verità è che è da tanto tempo che non faccio un vero lavoro. Io non faccio niente. Scusi, e tu chi sei? È il mio appartamento, ve l'assicuro. Accidenti, ce ne andremo entro un paio di giorni, d'accordo? La cena era molto buona, grazie. È il minimo che possa fare. Siediti, andiamo. Coraggio, seguimi. Oh! È molto bravo. Sì. È davvero un ottimo gruppo. Sto cercando mio. Volevo chiederti se giovedì sera sei impegnata. Polizia di New York, venga da questa parte. Che cosa volete? Che ha pagato? Signore, la prego, sia lontani. Da dove viene? Dov'è Tarek? L'hanno arrestato. Io non me li andrò, fino a quando mio figlio non sarà uscito da lì. Offrimmo a uscire. Non potete portare via la gente così. L'avete capito? Non potete trattarsi in questo modo! Non potete trattarsi in questo modo! Non potete trattarti in questo modo! Grazie a tutti.